Ciao da Cristian di Empathy Dog. Oggi siamo qui nell'Empathy Dog Center per farti vedere, per farti sapere che sto aprendo un centro cinofilo alle porte di Cuneo. Come vedi siamo nella natura, nel relax, siamo immersi in una pace e una tranquillità, ma siamo solamente a 5 minuti da Piazza Galimberti, che è il centro di Cuneo. In questo centro avrai a disposizione l'intera area per un'ora intera per te ed il tuo cane, per fare esercizi mirati sulla naturale attitudine del tuo cane, sulla naturale predisposizione ad imparare nel tuo cane, sulle sue caratteristiche particolari dovute alla razza e in base anche alle tue esigenze e ai tuoi tempi. Avrai interamente l'area solo per te, questo perché voglio dedicarti il massimo. In questo centro avrai la possibilità di fare educazione base, educazione avanzata, avrai la possibilità di fare Shen Game, ricerca olfattiva, avrai la possibilità di fare anche attivazione mentale. Inoltre faremo anche Sheep Dog, sì, questo è l'unico centro in provincia di Cuneo dove si può fare Sheep Dog, ed è una novità. Quindi, come vedi, le possibilità di intrattenere te ed il tuo cane sono molte. Inoltre ci sarà un parco giochi dedicato a te e ad il tuo cane per farvi giocare ed imparare divertendo. E quest'estate ci sarà anche la piscina, quindi avrai anche la possibilità di portare il tuo cane a divertire nell'acqua, se l'acqua è un elemento che gli piace. Oltretutto, questo, avrai anche la possibilità di avermi personalmente a casa per risolvere problemi comportamentali. Perché i problemi comportamentali al campo, in un centro cinofilo, difficilmente si riescono a risolvere, perché il cane viene spostato dal suo naturale ambiente. Quindi, come vedi, le attività che si possono svolgere sono svariate. Quello che ti consiglio di fare, e che ti invito a fare, è di lasciare la tua email qui sotto per venire aggiornato sulla grande festa di inaugurazione dell'Empathy Dog Center e per avere un nuovo video dove ti spiego quello che potrai ottenere e quello che saranno le attività di questo centro cinofilo. Io ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato e ti saluto calorosamente. Ciao da Cristo! Ciao da Cristo! Ciao da Cristo!